Alcune scelte sono determinate dalla condizione fisica dei calciatori. Per condizione fisica non intendo tanto il fatto che abbiano recuperato meno dalle fatiche della gara precedente, ma soprattutto da acciacchi, botte che magari non hanno smaltito, o affaticamenti muscolari che rischiano poi dopo di portare a delle lesioni vere e proprie. Tanto è vero che faremo allenamento anche domani mattina e fino a domani mattina non diramerò neanche la lista dei convocati, perché ne ho quattro situazioni da verificare e voglio verificarle fino alla fine con più minuti possibili da concedere ai ragazzi come tempi di recupero. Sicuramente qualcosa cambierà, ma non è detto che cambino tutti e undici. Qualcosa cambierà perché vorrei che cambiasse solo esclusivamente per mie scelte e non dovute a scelte per causa di forza maggiore. Vediamo, non è per far pretattiche niente. Ti ripeto, c'è un allenamento oggi pomeriggio, c'è un allenamento domani mattina, poi si tirerà una linea e farò le scelte di caso. La voglia di andarla ad affrontare con lo stesso spirito e la stessa determinazione messa in campo appena due giorni fa, credo che sia quello l'input determinante, mi ha sorpreso il risultato negativo in maniera così rotonda di Cremona, perché per 65 minuti c'era stato grandissimo equilibrio nella gara contro l'Alessandria e tutti state vedendo che il campionato stratosferico stanno facendo in Piemonte e sinceramente vederli uscire così da Cremona non me lo aspettavo e questo ci deve far tenere ancora di più la massima attenzione perché si vorranno rifare, perché metteranno in campo cattiveria agonistica, metteranno in campo tanta attenzione e noi dovremmo essere particolarmente bravi ma essere pronti a ribattere colpo sul colpo perché lo spirito deve essere sempre quello, deve essere quello di andare sempre alla ricerca del massimo. Accontentarsi non va bene, accontentarsi deve essere perché non riesco a fare di più, allora è un altro discorso, ma l'obiettivo partendo dalla voglia che ci deve essere fin dal primo minuto, dal primo istante di vincere anche i duelli individuali, deve essere sempre quello di andare a fare tutto il possibile per andare a raccogliere il massimo. Noi durante la settimana cerchiamo di prepararle tutte nello stesso modo, sia in casa che fuori, però è talmente evidente la differenza di rendimento per i punti raccolti, perché poi talvolta abbiamo fatto anche prestazioni che non hanno raccolto per quanto magari meritavamo, è evidente, però la preparazione alla gara è sempre la stessa, sia in casa che fuori, quindi vediamo di dare continuità a quello che siamo stati in grado di fare nell'ultima gara a Casalinga.